Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vlog! Allora sono felicissima perché questo è il video del mio compleanno e diciamo sono poco presente su youtube però ci sarò per le occasioni speciali e poi tra l'altro ragazze ho deciso di portare un po' dei contenuti un po' più profondi su youtube visto che mi chiedete sempre di parlare ad esempio tipo del mio percorso universitario oppure tipo dei miei problemi che ho avuto con l'endometriosi insomma tutti questi contenuti come superare la fine di una storia che già lo feci simile però vorrei rifarlo, attacchi di palico, tutti questi argomenti un po' che possono essere ispirazionali fatemi sapere nei commenti poi lo sapete io sono sempre sempre presente su instagram nelle storie veramente ogni giorno e quindi seguitemi su instagram che lì ci sono sempre quindi cosa importante una volta siete impazzite per i gioielli che vi ho mostrato e anche adesso indosso tutti i gioielli pure lei ragazzi io li adoro proprio per il mio compleanno mi sono fatta un regalo e vi faccio un regalo perché mi sono fatta attivare un codice speciale poiché in tantissimi amate questo sito del 25% di sconto che è veramente veramente tanto su tutto il sito il codice è carlita compleanno carlita tattino compleanno e vi da il 25% su tutto il sito tra l'altro è bellissimo perché ho chiesto di attivarmi questo codice per il mio compleanno per voi ma è bello perché siamo anche quasi vicini alla festa della mamma quindi potete utilizzare questo codice per prendere questi gioielli per voi farvi un autoregalo e anche farlo alle vostre mamme è una bellissima cosa io comunque indosso questi gioielli che sono delle novità sempre che trovate sul sito pure lei sono bellissimi guardate che belli cioè adoro sono tutti pure lei anche gli anelli che sempre mi chiedete sono tutti pure lei quindi vi straconsiglio questi gioielli e questo sito perché veramente sono di qualità poi sono non si scoloriscono sono impermeabili all'acqua quindi potete anche bagnarli non succede nulla e sono 100% argento e oro quindi sono di super qualità io veramente li amo li indosso sempre anche voi li amate infatti mi scrivete sempre anche su instagram che acquistate che vi trovate bene quindi approfittate del codice vi metto il link nel box informazione è il codice carlita trattino compleanno e veramente veramente approfittate perché sono bellissimi e il 25 per cento uno sconto molto grande comunque adesso iniziamo ad addobbare per il mio compleanno e vi faccio vedere trascorreremo insieme questa giornata happy day carlita ragazzi ma voi vedete io quanti gioielli pure lei ho io li adoro ma sono veramente veramente bellissimi sono particolari sono veramente veramente belli collane orecchini troverete sul sito di tutto e di più guardate quanto sono belle anche queste con le iniziali queste catene che le ho cercate ovunque anche quest'anello lo è di pure lei anche questi altri qua che io sempre li indosso voi sempre mi chiedete eccoli sono sempre di questo sito pure lei e poi vi arrivano in queste fantastiche scatoline cioè adoro guardate che belli vi metto il link nel box informazione di questo sito ma ve ne innamorerete e approfittate perché avete il 25 per cento su tutto insomma io veramente li adoro anche questi qua con le monetine sono bellissimi sono pazzeschi quindi approfittate del mio codice sconto che dura 4 settimane quindi mi raccomando approfittate 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 grazie guardate che bello proprio ora ha aperto al corriere e mi ha portato un pacco per la festa della mamma adoro che bello che poi tra l'altro oggi è anche il mio compleanno quindi sono troppo troppo felice pure lei è veramente un team pazzesco perché hanno jelly bellissima poi proprio loro cioè sono proprio speciali già si vede nella cura che mettono nei pacchi comunque il telefono mi continua a squillare mi hanno fatto questa collana personalizzata bellissima con l'incisione adoro comunque dovete troppo andare sul loro sito perché hanno dei jelly bellissimi e tra l'altro risparmiate un sacco adesso quindi approfittate vi lascio il link nel box info adoro grazie pure lei I love you siamo in super preparazione ragazzi salutate youtube qua abbiamo Giusy Giusy Ficcirillo poi abbiamo Poli Service lì dietro che sta facendo una bellissima struttura e abbiamo aria di festa per tutti i palloncini loro sono bravissimi adesso vi facciamo vedere cosa stiamo organizzando di fantasma abbiamo Armando la mano di Armando è una mano guardate come è una mano possente e poi abbiamo la nostra super Mary truccatrice Maria D'Ambro sempre lei è fantastica col suo tocco magico contro luce non fa niente qua su youtube possiamo fare tutto quello che eccolo vedi sei comparso anche tu però vabbè sono il cappello e c'è un perché però dovete seguire Armando la pietra su instagram e scoprirete ne vedrete delle belle poi qua ragazze c'è anche questa fantastica scritta facciamola vedere un'anteprima oh mio dio shock because shock because non c'è sta spin ma c'è pupi tutto bello così tutto vero guardate quanto è bella poi ve la farò vedere anche al muro e questa me l'ha fatta this is love this is love event boutique seguitelo su instagram che lui fa delle cose fantastiche e non vedo l'ora di metterla al muro no vabbè la amo guardate che bellissimo trucco che mi ha fatto Mary no vabbè adoro sto preparandoci le mollettine e sto vloggando perché oggi è una giornata speciale vi farò vedere cosa c'è dentro ogni evento ogni shooting c'è tanto tanto lavoro e niente questo trucco fantastico è merito di Maria Maria D'Ambro c'è anche lui guardate quanto è bello sei bello tu sei bellissimo che bello ciao 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 vuoi così? a ti piace così? aspetta servi chi è? chi è questo bimbo? eh no se fai così non vedi più chi è questo bimbo? sei tu? guardate che meraviglia che meraviglia ragazzi guardate che meraviglia pasticceria 900 ha preparato tutte queste cose meravigliose questa torta stupenda ragazzi guardate che meraviglia questi sono i fantastici dolci della pasticceria ah ma guardate che meraviglia questi guardate che meraviglia questi sono i fantastici dolci che ha preparato la pasticceria 900 guardate c'è questa torta loro sono eccezionali per le feste ma non solo ci dovete andare fanno dei dolci buonissimi questi sono i cupcake poi questa torta la chiffon cake guardate qua e sono anche buonissimi perché noi ci serviamo sempre da loro ma vi giuro che sono buonissimi qua ci sono altre cosine poi quest'altra qua guardate che meraviglia no ma fanno delle cose veramente belle e anche buone pasticceria 900 è veramente il top la bellezza sì ma guardate che bellezza queste fragole fragole al cioccolato comunque Daniel non parla mai parla solo quando accendo la videocamera quando accendo la videocamera parla perché voleva la videocamera comunque sono buonissime fragole al cioccolato sempre una squisitezza fatta da pasticceria 900 e poi qua guardate qua cioè di cosa parliamo guardate questi lustici buonissimi tutti fatto da loro eccoli qua pasticceria 900 guardate vi giuro ragazze contattateli perché fanno delle cose e pazzi sì ma la bellezza di questa scenografia vi lascio tutti i riferimenti nel box informazione perché veramente hanno fatto cose fantastiche tutto questo pasticceria 900 che è una pasticceria buonissima tutti i cuscini di Nando this is love event boutique guardate che meraviglia e la struttura dietro l'ha fatta poliservice tutta di cioè sembra vera ma invece è polistirolo loro fanno cose fantastiche poi tutti i palloni palloni guardate quanti palloni guardate quanti palloni aria di festa ringrazio tantissimo e poi ovviamente giusi ma com'è giusi è bravissima e Daniel cioè Daniel è impazzito se no non la contattate mi do è bravissimo c'è lui che è impazzito con i palloni adoro ti piacciono? vuoi giocare con i palloni? fallo giocare con i palloni vieni i palloncini i palloni ti piacciono? tanti auguri a te tanti auguri a mamma tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te mi sono belli i palloncini dove sono i palloncini? boom guarda Daniel guarda quanti palloncini a mamma di qua di qua di qua guarda qua vieni qua eccoli questi amori miei chi sono i miei amori? chi sono i miei amori? e Pubi e Pubi vuoi salutare? dici ciao a tutti ciao 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 e mandi un bacio bacio e Pubi che si rotola Pubi ma che fai? Pubi Pubi ma che fai? si è appena svegliato belli miei amori bellissimi dimmi la cosa mamma e mando un bacio a tutti ciao a tutti ciao mandi un bacio e bacio e bacio solo un bacino lo sapete? bacino lo sapete che Daniel per il mio compagno mi ha dato un bacino in bocca si? a mammi aspetta aspetta così cadi chi è? e non così a mamma è molto attratto vero? e c'è tua mamma ti amore pure grazie amore guardate che belle rose mi ha fatto Dario bellissime ma sono troppo belle grazie amori miei amore il regalo amore il regalo le rose sono belle ragazzi continuate a seguirci perché ci aspettiamo anche un regalo giusto? sono bellissime queste rose con anche il bigliettino guardate che belle adoro grazie aspettiamo il regalo vergognati ma come senza regalo no ti devi vergognare vergognati senza regalo ragazzi vi faccio fare un tuffo nel passato casa dei miei vi ricordate tutti i video che ho registrato questo giardino qui non è cambiato tantissimo tranne che abbiamo messo questo cancelletto qua perché uno dei nostri cani non cammina più quindi per evitare che si strusci questa è la moto di Daniel questo è il scivolino di Daniel e qui abbiamo chiuso perché stiamo scendo trascorrendo veramente delle giornate bellissime in famiglia questo è l'arbrello di limoni dove prendevo tutti i limoni nel nostro abberello e niente volevo solo farvi fare un tuffo nel passato con questa bellissima atmosfera vi mando un bacio grande e lasciate un like al video e tanti commentini vi aspetto su instagram ragazze dove lì sono molto molto più attiva però anche qua su youtube se volete ritornerò ciao ciao c'è anche i molli di là c'è anche i molli allora posso tu dove ti metti qua serata sushi per il mio compleanno ragazzi non potevo desiderare di più guardate che meraviglia adoro guardate qua mamma mia questo è bellissimo mamma mia anche i noodles le patatine le damame vero e qua c'è anche daniel ehi buon appetito e i fiori bellissimo che bello buon appetito buon appetito mamma super 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 regalo unboxing aaaah immaginavate che avessi preso questo raga cioè lo amo lo amo troppo troppo guardate qua cioè è bellissimo mi dovete credere da nessuna parte trovavo il pro max questo qua grande con la quantità più grande di giga l'ho dovuto ordinare lo sto aspettando da mesi vabbè comunque è bellissimo adesso mi devo sincronizzare tutte le cose lo amo mi piace buon compleanno a te a te ci vediamo su instagram ragazze per vedere le mie gestori e le mie foto se vengono più belle con il nuovo iphone vi aspetto su instagram ciao 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 Grazie a tutti